ciao allora oggi parliamo dei cerotini per il naso questi dell'essence il pur skin nose strip che credo che tutte 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 conoscerete e ogni confezione viene 2 euro 50 io le trovo e ne contiene 3 io adoro questi cerottini credo che ne ho provati tanti ho provato la bioderma garnier la l'oreal ne ho provate davvero tantissime e credo che questi siano davvero i migliori cioè quando si attaccano benissimo poi quando li andate a togliere sono belli attaccati proprio la soddisfazione di quando li togliete perché proprio dite ok è venuto via tutto meraviglioso io questi li adoro li adoro ma faccio fatica fatichissima a trovarli se li trovate voi prendetene a quantità industriali prendetene perché uno non si sa se torneranno mai non si sa quanti se si troveranno di nuovo e prendetele perché sono i migliori ottimi anche con la bronzatura non tolgono la bronzatura quindi visto il periodo è perfetto io trovo le ve ne ho già parlato e quindi non mi starò a dilungare ho trovato una marca coreana anzi ne ho trovate due in questo caso questa è una che ho testato e ne sto provando alcun'altra che se non guardate le istruzioni perché comunque sia in non si capirà niente però sono valide anche questi e chi non trova l'essence oppure questi ad esempio sono dieci pezzi se non sbaglio dieci pezzi e vengono tre euro tre euro qualcosa quattro euro forse tre cinque tre novanta quattro euro alla fine fate un attimo la comparazione e dite cavolo conviene e conviene e sono ottimi però i tatswing tanti questi mentre questi anche in negozio quindi tranquillamente i cialottini sicuramente li abbiamo state un po' su questi marchi perché io ho trovato quelli della L'Oreal che adesso si è messa a fare anche quelli triangolini per la fronte per il mento che io odio rifatti solamente quelli normali che forse funzionano quelli con il triangolino non è la L'Oreal è la Nivea la Nivea fa anche i triangolini e dice no no lasciate perdere quelle cose perché non funzionano niente fatemi sapere qual è la vostra marca di cialottini per caso preferita si lo so un discorsone proprio ed è spiegata utile prossimo video ciao